Sì, grazie Presidente. Voteremo a favore. È un atto di buonsenso. Ricordo, come ho dichiarato in Commissione, che in questo atto, per raggiungere quegli obiettivi prefissati, si devono attuare una serie di strategie virtuose, tra le quali l'avviarsi verso l'economia circolare, la progressiva chiusura degli inceneritori, l'attivazione della strategia rifiuti zero, puntare sulle energie rinnovabili, progressiva chiusura dei grandi impianti, anche per esempio quelli a Biomassa, ricordo la famosa sentenza del Tar, ma ci ritorneremo con tutta calma. Direi che raccogliamo con ottimismo questo voto unanime, soprattutto da parte del PD, perché vuol dire che è aperta la riflessione. Ahimè, ricordo che proprio ieri l'altro è stato approvato definitivamente l'inceneritore di Casa Passerini, della città metropolitana. Ora, questo non so cosa comporterà all'interno del PD, se ci sarà un contrasto con quanto votato oggi, ma insomma, diciamo che è il dibattito aperto, mettiamola così. Sì. Grazie.